Il mio nome è Antonio. Sono nato in Italia, ma questo non ha molta importanza. Sarei potuto nascere ovunque. Muoversi! Benvenuto a Teresine. Cosa è questo posto? La chiamano Zona Autonoma di Insediamento Ebraico. Ma è solo uno stupido ghetto dove ci hanno confinato. Siete qui per lavorare, è chiaro? Sì, è contattato. La vostra alternativa si chiama Treni per l'Est. Esiste la remota possibilità di una visita da parte della Croce Rossa internazionale. Vi sollen diesen Ort so gestalten, wie Berliner's wünscht, dass er vor den Augen der Besucher wird. Qui a Teresine c'è una grande concentrazione di artisti, musicisti, scrittori. La cosa più semplice è dargli l'opportunità di fare quello in cui riescono meglio. Herr Schmidt vi ha concesso di suonare due volte la settimana. Sì, ma come faremo con gli strumenti? Io ho trovato un mezza coda nero. In un pianino. Bene. Sembra l'inizio di qualcosa di nuovo. La musica, i concerti, gli spettacoli fanno parte del grande inganno di Teresine. Io so che la musica è la cosa più importante che abbiamo e so che qui dentro ci aiuta a restare in vita. La musica è la musica, i concerti, richiesti, gli spettacoli fanno parte del Kind lijemi. La musica è la seconda del mondo. La musica è la musica, i concerti, gli spettacoli fanno parte del casually. Grazie a tutti.